L'Italia è diventata molto interessante, da un lato i tassi di interesse per la crisi cinese e per una serie di crisi non tenderanno a salire dal mio punto di vista nel medio termine e quindi rende più conveniente l'acquisto di un bene immobile, dall'altro gli investimenti alternativi rendono pochissimo e sono più rischiosi, quindi l'Italia oggi non è ancora cresciuta di prezzo, è ancora ai minimi rispetto ad altri paesi che invece di Inghilterra si è bellissima, sa benissimo, è inutile se lo sa meglio di me, è ai minimi, è sicura dal punto di vista, è un paese che non ci sospettano sconvolgimenti o cose difficili e quindi siamo molto interessanti, il problema è il tipo di offerta, da quello che loro dicono, è il tipo di offerta che l'Italia in questo momento è in grado di dargli, il fondo deve raggiungere una massa critica tale per giustificare l'investimento e dal mio punto di vista ci stanno tutte le carte per una ripresa, è iniziata timidamente, l'evoluzione io credo ci darà soddisfazione, per trasformare il quartiere deve passare attraverso un intervento della legge, con la legge attuale è già difficile fare un palazzetto, Milano è diversa perché Milano ha dell'industria al centro della città che si possono demolire e costruire, ci vuole una legge diversa, ci vuole un intervento pubblico, ci vuole un accordo pubblico privato, dare una certezza sui tempi, perché tutte condizioni che rendono l'investimento fattibile, ci vuole un intervento normativo, altrimenti così ha la stessa città con degli immobili ristrutturati e quando la famiglia passa da 4 persone a 2 persone, quando il centro di gravità della famiglia diventa il salone e non è più la cucina come 50 anni fa, le famiglie sono l'8% in più, sono lei gli dà un prodotto studiato per un tipo di famiglia diverso, va ben uguale, ma la concorrenza delle altre città si vede.